L'azione di ACI è diretta a promuovere e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo, fornire istruzione ed educazione nel settore della mobilità, gestire per delega dello Stato il pubblico registro automobilistico, gestire per conto degli enti territoriali convenzionati con ACI le tasse automobilistiche, promuovere lo sport automobilistico. In particolare, l'ACI approfondisce con studi specifici gli aspetti connessi al mondo dell'automobilismo anche rivolti alla formulazione di proposte innovative, da pareri nelle tematiche di settore su richiesta delle competenti autorità, opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idoni a sviluppare e favorire lo sviluppo dell'automobilismo, offre servizi agli automobilisti di tipo tecnico, stradale, economico, legale, tributario, assicurativo. ACI collabora ad analisi, studio e soluzione dei problemi relativi allo sviluppo e dall'organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione. Eroga servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche per conto di molte regioni. Infine ACI promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federazione Internazionale dell'Automobil, FIA. ACI svolge due ruoli tra loro distinti, ma allo stesso tempo interconnessi, istituzionale e di servizio pubblico. Il ruolo istituzionale è svolto da un articolato sistema di soggetti, ACI, Automobile Club e società del gruppo. Tale ruolo si esprime attraverso l'impegno profuso nel generare la cultura della mobilità in sicurezza attraverso lo studio e la ricerca applicati alla mobilità sostenibile, la progettazione del territorio, l'assistenza, la formazione e l'informazione sui temi della mobilità, il sostegno e sviluppo del turismo e dello sport, la promozione del club con l'arricchimento del contenuto associativo. La funzione di servizio pubblico fa riferimento alla natura di ente pubblico non economico. Tale funzione si svolge attraverso la presenza capillare sul territorio, finalizzata a offrire servizi di qualità ai cittadini, nella veste di automobilisti e contribuenti, con particolare attenzione a qualità, efficacia e semplificazione. Rientra in questa funzione la gestione dei servizi delegati dallo Stato, pubblico registro automobilistico, dei servizi resi in convenzione con enti pubblici territoriali, riscossione e controllo dei tributi automobilistici. Le attività di ACI si sviluppano anche a livello internazionale. ACI si fa infatti portavoce delle esigenze degli automobilisti italiani presso l'Unione Europea, partecipando attivamente alle iniziative dell'AIT e FIA European Bureau, essendo affiliata alla FIA sin dal 1905. Questa comprende più di 235 organizzazioni automobilistiche in 140 paesi. Ciò significa che la FIA e i suoi club possono educare attivamente i propri membri ed incoraggiarli a comportarsi correttamente sulla strada. La FIA è divisa in due settori, mobilità e sport automobilistico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.